Per ora i dati reggono, certo non sono incoraggianti per il momento e sono indicatori di un clima di sfiducia e di attesa. È un quadro a tinte chiaroscure, anzi soprattutto scure, quello delineato dai dati del Movimprese al 31 dicembre 2020 che confermano l'estrema complessità della situazione economica nazionale e locale. I numeri infatti fotografano la peggior crisi degli ultimi 20 anni. Il dato rilevante riguarda soprattutto il calo delle nuove iscrizioni che è veramente significativo perché mancano all'appello circa 300 imprese con una flessione rispetto agli anni precedenti del 16%. Nell'altro fronte, per quello che riguarda le cessazioni, abbiamo un saldo che porta a un negativo di 1,04%. Sono 141 le imprese tra nuove iscrizioni e cessazioni come saldo. Ovviamente i nostri imprenditori stanno un po' a guardare, soprattutto attendono probabilmente che arrivino i benefici che dovrebbero arrivare dai bonus e per il momento mantengono l'iscrizione al registro imprese. In flessione maggiore i settori più significativi del tessuto economico e aretino, dall'oreficeria al manifatturiero e commercio. C'è un aspetto positivo che riguarda il settore delle costruzioni che invece è in controtendenza, in crescita, probabilmente legato anche agli incentivi degli ecobonus. Sarà comunque fondamentale attendere i prossimi trimestri per avere un quadro significativo degli effetti della pandemia sull'economia aretina. Ci dobbiamo aspettare un periodo di assestamento con ulteriori movimenti da parte soprattutto a questo punto del numero delle imprese che dovrebbero probabilmente calare. Sicuramente il problema riguarderà l'aspetto occupazionale che in questo momento è tenuto a freno per quello che riguarda i licenziamenti, per quello che riguarda gli ammortizzatori sociali, appunto dai divieti previsti dalle norme attualmente in vigore di licenziamento e dall'assistenza della Cassa Integrazione. Quando finirà tutto questo auspichiamo che arrivino sicuramente gli incentivi per ripartire da parte dell'Unione Europea con il Recovery Fund, soprattutto che possiamo beneficiare anche della riapertura dei mercati.